Padre Colombano è arrivato a Montegiove nel 1966, più di 50 anni fa, e in questa casa ha sempre vissuto da allora. La piccola cappella del convento dei monaci camaldolesi di Montegiove contiene tutti i fedeli che desiderano portare il loro ultimo saluto a Padre Colombano. La funzione religiosa celebrata da Padre Alessandro Bardan è asciutta e rigorosa, come la vita del monaco 103enne, di cui lo spessore come religioso e uomo di chiesa lo si percepisce nelle parole del saluto dei fedeli. Passaggi pieni di rammarico e dolore per la perdita, la cui gioia per la vicinanza del frate al cospetto di Dio non riesce a mitigare il vuoto con cui i suoi fedeli devono convivere in questi momenti. Ma Padre Bardan, nell'Omelia, sostenuto dalle parole della seconda lettura che narra la parabola del buon samaritano, incalza i presenti sul senso di fuga da nostro Signore, che alle volte, travolti dalle domande senza risposte, tentiamo di fare. Ma da Dio non si fugge, esorta il religioso. Lui ci mette sempre alla prova e come lui ti dice che sei proprio tu che devi occuparti del più debole e del più bisognoso. Chiunque esso sia, non quello che passa dopo di te o prima di te, ma tu, proprio tu, il nostro prossimo, non lo possiamo scegliere. È Dio che ce lo manda. E quindi la vita di Padre Colombano, severa, rigorosa, devota alla regola, comunque è stata una vita di conversione. Perché chi sceglie la vita monastica, conclude Padre Bardan, sceglie una vita di chi vuole avvicinarsi a Dio attraverso gli altri, vicino agli altri e con gli altri. Una vita non in verticale, solo potesa al Padre Celeste, ma per convertire tutti coloro che ci sono vicino. Ed ora Padre Colombano ha terminato la sua conversione con la vicinanza a Dio. Un ricordo, ricordi ne ho tanti di Padre Colombano, tantissimi. Quello che mi porto e mi porterò nel cuore è un piccolo aneddoto che vi voglio raccontare, che risale a ieri mattina. Sono rientrato dal capitolo generale che stiamo celebrando a Camaldoli, appena ho saputo della sua scomparsa. Entrando nella sua cella, la prima cosa che ho visto è stato il nostro calendario liturgico. L'ho raccolto e il risvolto di copertina era esattamente piegato sulla data del 7 ottobre, la data del giorno. Questo ci dice che Don Colombano ha pregato fino all'ultimo giorno della sua vita, forse fino a pochi istanti prima. E questa è la testimonianza più bella di lui, è l'eredità che ci lascia, una fedeltà assoluta alla preghiera.